Buon sabato, ben trovati con Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. In A1, personale su strada segnalato tra Chiusi, Chianciano e Fabro in direzione di Roma, solita direzione un veicolo in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta. E' ancora chiusa una corsia sulla statale 223 di Paganico, tra Paganico Nord e Civitella Marittima. Altra riduzione di carreggiata per il fondo stradale dissestato sulla 12 della Bitone e del Brennero alla variante di Ponte Amuriano. Lavori sulla Bistiberina, la E45, nel tratto compreso tra Pieve e Santo Stefano Nord e quello Sud. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, guidate con prudenza, ci sentiamo più tardi. Grazie a tutti.